Quale negozio prenderà il posto dell'Old England Store a Firenze? Se nella migliore delle ipotesi una boutique, come oramai, è regola nel quadrilatero fiorentino della moda o nella peggiore, un negozio di cibo spazzatura ancora non è dato sapere. Una cosa è certa, però, questo 2016 si chiuderà con l'ennesimo duro colpo al commercio di qualità. Ancora pochi giorni, infatti, e per l'Old England Store di Via Vecchietti sarà la fine. Il 30 dicembre, infatti, verranno buttate giù le saracinesche. I motivi? Un affitto troppo caro, le imposte e la concorrenza. Un pezzo di storia, a tutti gli effetti, che Franco Zeffirelli scelse addirittura come location per alcune scene del suo Teco Mussolini. Un triste destino, quello cui la globalizzazione aveva condannato lo store, che in futuro, però, per altre botteghe, potrebbe avere un esito non così scontato. Il Consiglio dei Ministri, approvando il decreto Madia e il cosiddetto sciabis, spiega all'assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini, sancisce nuove possibilità per i Comuni di disciplinare le attività commerciali nel centro storico. In virtù del potere conferito dalla legge statale, potremmo dunque adoperarci per un intervento preventivo ed evitare che si ripetano casi simili, disciplinando le attività commerciali nel centro patrimonio dell'UNESCO e sostenendo gli esercizi di qualità. Le amministrazioni della città d'arte, d'ora in avanti, avranno dunque manforte nel limitare i danni dell'invasione commerciale nei centri storici.